Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchi Kagimer che vi parla E siamo tornati su The Legend of Dragoon Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta O meglio siamo all'uscita del nido del drago Abbiamo affrontato Graham il cavaliere dragone del Dello spirito del drago verde Abbiamo affrontato anche Freinbard insieme a lui Li abbiamo battuti entrambi Ma abbiamo scoperto anche cose sul passato di Lavitz O comunque qualcosa in più sul suo padre Che dire Che poi c'è dietro l'imperatore Doel che gli ha dato la gemma E quindi ora abbiamo tre spiriti di dragone totale E quindi adesso siamo a Loan Se non sbaglio Loan è anche la città del mercante che abbiamo salvato Mi pare Ah già Shannon non si sente bene Ok Che folla E siamo nel bel mezzo di una guerra E' vero Se stessi bene mi divertirei un sacco Presto starei bene Non credevo che si potesse trattare di veleno di drago Finché Non l'ho visto con i miei occhi Sanator Ehm Ok Non ho mai visto sintomi del genere Non si tratta di nulla di fisico Almeno così parrebbe Ma la sua coscienza E' come ripiegata in se stessa Dopo che è arrivata qui Sembra che solo la mente Si è avvelenata Non il corpo Non credo che la clinica possa aiutarla Mi spiace Ma potrebbe rimanere in questo In queste condizioni Per una settimana Se va bene Non possiamo fare niente Farò tutto quanto è possibile Qual è il legame Tra una ragazza così carina E un mostro leggendario Lei ha combattuto Contro il drago Frenbard Rifletteteci Potete fare qualcosa Un momento Dove se ne va? Se troviamo la Dragonia Vegetalis Potrebbe farcela Davvero? L'ho letto nell'erbario segreto L'unico problema E' che la Dragonia Vegetalis Come i draghi Esiste solo nelle leggende Non posso garantire Con certezza Che esista davvero Ad ogni modo Non possiamo stare qui Ad aspettare Senza fare niente Andiamo a cercare La Dragonia Vegetalis Per conto nostro Forse in questa città Riusciremo a trovare Qualche cosa di utile L'Ona è una città commerciale Dove tutti sono ben accolti Troveremo utili informazioni Ok Anche se solo temporaneamente Proverò a bloccare L'avvelenamento Non per nulla Sono giudicato Il miglior medico Di Sergio Sarò all'altezza Della situazione Ok Allora Vediamo qui Bel 200G Mamma mia Allora Ho perso il mio figlio È in giro tutto solo Bravo Bravo Complimenti Padre dell'anno Qui Questa città è troppo caotica Per gli anziani Servirebbe un po' più di buonsenso Ehm Mamma mia Ehm Non Ehm Ehm Ho domandato a mio padre di badare alla bottega Andrò un attimo all'arena L'arena? Ehi ragazzo cosa mi dici di questo ciondolo per la tua ragazza? L'habit angelico Eccolo qui è Dabas lo sapevo io Benvenuti Ehi Dabas E' quello strano mercante che abbiamo incontrato l'altro giorno Sono lieto di rivedervi Grazie per quello che avete fatto A Villude Ora sono tornato alla mia attività Allora Cosa vi serve? Potete trovare tutto all'emporio dell'antiquario E all'emporio dell'antiquariato di Dabas Avete anche le erbe mediche? Perfetto Io ho proprio tutto Dalle medicine più rare Alle magie più segrete Avete sentito parlare della Dragonia Vegetalis? Ho sentito dire che è un'erba molto rara La Dragonia Vegetalis L'avete? No E allora di che cosa ti vanti che c'hai tutto? Dabas Non arrabbiarti Stavo scherzando Ma fammi pensare un po' Ricordo di averne sentito parlare da qualche parte Un sol istante Bene In questo quaderno segreto Sì Eccola Dice A nord della foresta avvelenata Oltre la pianta molesta Ho visto una Dragonia Vegetalis Proprio dietro Al santuario Questo mi ricorda quella Strana pianta Che ho visto In un anfratto della foresta Mentre Shana si riposava Ah Quella che è diventata un mostro A causa del veleno del drago Non è possibile superarla Se non la si purifichi Con qualcosa Con qualcosa Cosa ne dite dell'acqua sorgiva Sotterranea Acqua sorgiva sotterranea Forse farebbe bene alla pianta Ma certo Grazie Ehi Ma non fate acquisti Tutto qui Allora Qua cosa abbiamo Vediamo Vediamo cosa ha questo Come bottegaio E non mandare là Questo cos'ha Armi Asta La cappa E non mandare di là Ehi Tu Ragazzo Ragazzo per bene Ragazzo per bene Ho qualcosa Che fa per te Questo mi fa venire in mente Che ci serve qualcosa Per portare L'acqua sorgiva Vediamo un po' Così mi piace Sei un intenditore Ti garantisco che ho solo Merce buona Voglio un po' Voglio un po' Voglio solo una bottiglia Ehi 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 Solo un minuto Stavo scherzando Non prendetemi così seriamente Qual è il prezzo Qual è il prezzo vero Allora Si Circa 3000 gold Perché non ve la comprate Costa troppo Troppo costosa Ti farò uno sconto Che ne dici Di 2200 E' ancora Troppo cara Arrivo a 1000 g Offerta migliore 500 Bene Ora va meglio Grazie Hai preso la bottiglia D'acqua Ora siamo pronti Grazie Ce ne dobbiamo Tornare là Alla foresta Allora Io credo Di dover Fare così Primo scontro Di giornata Oh là Ok 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 Allora Allora Veniamo qua Spariamo bene Con quest'acqua Secondo Dabas Dobbiamo liberarci Di quella pianta Per raggiungere Il santuario Il santuario Il santuazzo Dragonia Vegetalis Hai preso L'acqua Vitale Su Andiamo Ok Ok Perfetto E l'acqua L'abbiamo presa Ora 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 non Mi ricordo Come arrivare Di là Come arrivare di là Poi credo Poi credo Poi credo No perché di lì Torniamo Ok Ok Di qua Ok Così ci ricarichiamo I nostri spiriti Di dragone Vabbè Quello di rosso Dovrebbe essere Al massimo Ok Questo è andato E l'ala First try Con Laviz Adesso sono diventato Molto più bravo A fare ciclone punitivo Dovrebbe essere Se non erro L'avevamo vista Di qua Eccola lì Dovrebbe essere Questa La pianta La pianta Sta passendo Possiamo passare Ora Che bravi che siamo Santuario di Shirley Lei Se cente hai perso No no Era vuoto Quello scrigno Eh Cosa succede La statua La statua di un drago Drago Spero non accada Nulla di male Tirate fuori Gli spiriti Di dragone Stanno risuonando Significa che lì dentro Si nasconde un dragone Non dobbiamo far altro Che scoprirlo Muoviamoci Qua Vediamo cosa c'è Penso di trovare Il tesoro Qualcuno ci ha Preceduto A quanto pare Possiamo Smetti L'ha capito Risuona di nuovo Mi sento fresco La stanchezza è scomparsa E l'effetto della risonanza E niente di qua Non abbiamo niente Un guerriero di pietra Ok Ok Perfetto Molto bene Benissimo Andiamo di qua Cosa abbiamo qui Cosa abbiamo qui Non c'è capito No c'è capito No c'è capito E se ne va Nooo Troppo presto Stavolta No c'è capito Affondo infernale Colpo di frusta Colpo di frusta Ok Non c'è capito Non c'è niente Qui Capito E di qua Non si può Proseguire Ok 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 Oh Quindi si è aperto Qua Non è che ci sia qualcosa Anzi Non mi pare Ok Non c'è capito Anzi Sono due Non c'è capito Non c'è capito Ok Ok Se vedete Adesso che abbiamo Caricato tutti Al massimo Abbiamo qui Il special Però Lo special Ve lo farò vedere Dopo Quando avremo Un boss Da battere Che mi sembra Un po' uno spreco Farvelo vedere Adesso Dai C'è magia Pica miseria Vabbè Sul rosa Non fanno niente Queste Appunto Quindi Cos'è questo Ci sono Tre dischi rotanti Su cui Trovano I numeri Dall'1 Al 5 Sembra Una specie Di dispositivo Con un lucchetto A combinazione Prova Dart Allora Il primo Numero È Quattro Il secondo È Tre E L'ultimo Numero Cinque Mi sa che ho sbagliato Non può funzionare Se non uso i numeri giusti Arrivederci Oh Oh C'è 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 D melodia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, ma siamo dall'altro lato, quindi... Wow! Deve esserci qualcosa... Qualche trucco. Davanti... Vediamo... No! Ok, allora... Questa... Vediamo... Così... Olè... Uh, salvataggio, finalmente... Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... Alla prossima... Ciao belli... Ciao belli...